Vediamo adesso l'ultimo esercizio, il quarto. Stavolta c'è da calcolare la lunghezza di un pendolo balistico, quindi progettiamo un pendolo di massa a 2 kg in modo tale che si inclini di 50 gradi quando viene colpito da una pallottola di 40 g a 150 ms. Quindi lo dobbiamo progettare della giusta lunghezza in modo che si inclini in questo modo. Poi naturalmente c'è da calcolare il calore sviluppato nell'urto. Poi c'è un'altra domanda, ma la vediamo dopo. Questi sono i dati e la lunghezza del pendolo è l'incognita. Scriviamo le tre formule solite e andiamo alla ricerca delle incognite e dei dati. L'incognita è la lunghezza del pendolo, che si trova nell'ultima formula. Quindi porto i due termini con la lunghezza, quindi l cos'alfa e l, dalla stessa parte a destra. Quindi h uguale a l meno l coseno di alfa. Raccolgo l'incognita l e con la formula inversa la ricavo. Quindi è l'uguale a h diviso 1 meno coseno di alfa. Però per trovare la lunghezza del pendolo mi serve l'altezza h raggiunta dal pendolo. L'angolo ce l'ho. R a 50 gradi. Per trovare l'altezza raggiunta dal pendolo devo utilizzare la seconda formula. Quindi da qui troverò l'altezza che poi sostituirò qua per trovare la lunghezza del pendolo. Però questa altezza io non posso calcolarla immediatamente perché non ho la velocità v' con cui parte il blocco e il proiettile dopo l'urto. Però questa v' la posso calcolare dalla prima formula. Quindi riassumendo tutto il procedimento, dalla prima formula io calcolo v' la velocità di partenza dopo l'urto del sistema. V' la sostituisco qui, trovo l'altezza massima raggiunta dal blocco e dal proiettile. Questa altezza la vado a sostituire qua e trovo la lunghezza del pendolo. Iniziamo i calcoli. V' formula inversa. M della pallotto la diviso alla somma delle due masse per la velocità. 40 g, la massa complessiva è 2040 g, sono 2 kg e 40 g, la velocità 150 ms e questa è la velocità v' con cui parte il sistema dopo l'urto. Velocità che sostituisco qui, però devo fare la formula inversa per trovare h, quindi g va qua sotto, h uguale v' al quadrato diviso 2g. Sostituisco v' che ho appena trovato al quadrato diviso 2g, il risultato è 0441 metri, cioè questo pendolo si solleva di poco più di 44 cm. Infine sostituisco questo valore h che ho appena trovato nell'ultima formula per trovare la lunghezza del pendolo, quindi h diviso 1-coseno di 50 gradi e fa circa 1,24 m. Questa è la lunghezza del pendolo. Per calcolare invece il calore prodotto procedo come nel video precedente, l'esercizio di prima, calcolo prima l'energia meccanica della pallottola, cioè la sua energia cinetica, prima dell'urto. Sostituisco i valori, 40 g, la velocità della pallottola a 450 J di energia cinetica. Poi calcolo l'energia meccanica dopo l'urto, che è l'energia cinetica con cui parte il sistema, con questa velocità V', 2,94 ms. La massa complessiva è 2,040 kg, risultato circa 9 J. Quindi vediamo che dei 450 J iniziali della pallottola, soltanto 9 J residui sono rimasti in forma di energia meccanica. Ben 441 J si sono trasformati in calore, quindi quasi tutto, come nel caso precedente, cioè nell'esercizio di prima. Sono questi 9 J residui che il pendolo mantiene costanti durante la salita, trasformandoli da energia cinetica 9 J in 9 J di energia gravitazionale.